A difendere i pali della GSM Verona è arrivata anche Talman, portiere della Nazionale Svizzera, ma anche italiana perché hai parenti di origine italiana chiarissimi. Allora, perché questa scelta innanzitutto che è arrivata un po' così all'improvviso? Il Verona mi è sempre piaciuta come squadra in campo, è sempre stato un avversario ostico e sono contenta di poter fare parte di questo gruppo, di venire nel Veneto dove la mia famiglia ha le sue origini e di poter disputare di nuovo la Champions. Con la maglia della Nazionale Svizzera ci saranno anche gli europei al termine della prossima stagione? Sì, quest'anno ho due obiettivi europei, con la Champions e gli europei. Bisogna fare bene durante il campionato per poi andare a disputare gli europei. Missa, tra i pali una sicurezza, è arrivata anche Talman, due grandi portieri, senza poi contare il terzo o la giovane Forcinella. Io credo che abbiamo un tris di portieri che sia il più forte non solo in Italia, ma credo che anche in Europa non ci siano squadre che hanno tre portieri come i nostri. Sarà una bella battaglia per guadagnarsi il posto, ma comunque sia, chiunque giocherà, noi sicuramente saremo in mani sicure. Sarà un Verona internazionale, un Verona che ha cambiato molto, ma è un Verona comunque ambizioso? È un Verona ambizioso, poi le capacità di queste giocatrici le vedremo in ritiro, le vedremo in campo. Non abbiamo ancora finito la campagna acquisti, credo che ci siano ancora un paio di giocatrici comunque straniere che devono arrivare. Credo che faremo una buona squadra, ci divertiremo e soprattutto creeremo un grande ambiente. Grazie.